Elisabetta Gregoraci, riflessioni su, Battiti Live, in una recente intervista rilasciata a Novella 2000, la showgirl ha esposto i suoi sentimenti riguardo al programma musicale Battiti Live, che ha condotto per diversi anni. Alla domanda sui suoi pensieri relativi alla nuova conduzione, affidata a Hilary Blasi e Alvin, Gregoraci ha espresso la sua nostalgia per l'equip che ha contribuito alla sua esperienza professionale. Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia. Quest'anno la conduzione è passata a Hilary Blasi ma non oso pronunciarmi a riguardo. Questa dichiarazione ha suscitato domande sull'emozione di Elisabetta riguardo al passaggio della conduzione. Un nuovo progetto in arrivo, nonostante la chiusura della sua avventura in Battiti Live, Elisabetta Gregoraci si prepara a intraprendere una nuova e promettente esperienza in televisione. Il suo prossimo programma, intitolato, Questioni di stile, debutterà il 26 settembre, e si concluderà il 31 ottobre nella fascia serale di Rai. In merito al suo ritorno in Rai, la conduttrice ha dichiarato. Dopo la mia esperienza in Mediaset, sono felice di ritornare da Mamma Rai e ancora di più perché in veste di, condottiera, di un format dedicato al mondo della moda che mi è particolarmente caro. La Gregoraci ha sottolineato le sue radici nel mondo della moda, iniziando la sua carriera sfidando le passerelle di Valentino e proseguendo nel cinema e in televisione. Dettagli sul format di, Questioni di stile, il nuovo programma della Showgirl si presenterà con un format differente rispetto a Battiti Live. Durante l'intervista, ha rivelato che in, Questioni di stile, si concentrerà sull'analisi della moda e dell'evoluzione dei costumi. Opererò in prima persona esplorando il mondo della moda, approfondendo l'evoluzione dei costumi, soffermandomi sul ruolo dei social media nell'innovazione della comunicazione e dei rapporti interpersonali. La Gregoraci avrà il supporto di vari corrispondenti, ognuno con la propria personalità e stile, impegnati a scoprire le ultime tendenze nel settore.